La squadra ha avuto una buona reazione, siamo riusciti a pareggiare meritatamente e diciamo che nel secondo tempo abbiamo avuto tanta occasione di raccoglio dove dovevamo vincere La squadra ha avuto una buona reazione, siamo riusciti a fare una buona reazione La prima reprise è equilibrata in cui abbiamo sperato e ancora più la fase fixa Abbiamo avuto un gol, ma la reazione a la la due reprise è stata molto buona Abbiamo riuscito a scrivere, abbiamo trovato alcune volte a marcar Abbiamo regalato meritat e chiar potete spiegare Grazie a tutti